Musica Ah hi people of youtube Welcome back to a new episode of Saint Tro 2 A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata che abbiamo ottenuto il nostro nuovo rifugio E prima di poterlo personalizzare Dobbiamo attivare altre missioni Missioni che sono i re magi Beh, giustamente Giustamente Una fucking gang Ah beh, giustamente Mica sono uno qualunque E più fottutamente forti e cazzuti Allora, andiamo nei soborghi No, non voglio questa macchina Voglio questa moto Che bello poi che ci sono le moto finalmente in Saint Tro 2 Non ho mai capito perché in Saint Tro 1 non ci fossero Forse non avevano tempo, non sapevano come farle Però bello, però bello Bello perché ci sono delle moto che sono veramente belle Ci sono delle moto che ci sono anche nei capitoli attuali di Saint Tro e sono proprio proprio belle Recluta i luogotenenti dei saints Allora, chi è il più vicino? Il più vicino è questo qui Quindi eccoci qua Ciao Carlos Sapevo che il primo eri tu Ciao Certo Tutto quello che vuoi Carlos Dai, sali su Ah beh È un grande Non è un bravo ragazzo È un grande Altro che Soprattutto in questo capitolo Johnny ha una parte importantissima Anni sentro due in poi Ma in questo capitolo in particolare Johnny ha proprio Diciamo tutto il suo spazio Oh fammi indovinare Un carro funebre Veramente Carlos Vabbè, va bene È già effettivamente Oh Iconico essere già qui al cimitero In questo momento Veicolo caricato È il momento di andarcene Vabbè Capito Ramon Io intanto Me ne vado Ma poi la pulizia Perché? Questo è un sequestro In piena regola È giusto che io Lo faccia Ma perché scivola? Comunque questa cosa qui Del carro trezzi È una figata assurda Nel senso È una cosa veramente unica Comunque sguscia Da far paura Guarda, guarda Guarda come sguscia Guarda, guarda come Come gira Non posso fare una curva Che vada D'altra parte E con un po' di scorciatoie Eccoci già arrivati Perfetto Sì Bravo Carlos Non solo sei in i Saints Sei anche uno dei miei luogotenenti Da oggi Il prossimo È qui vicino Dovrebbe essere Pierce Se non ricordo male Questo Scopriamolo subito Sì, è Pierce Va benissimo Ronin, 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 Ronin Preso Presi tutti e due Con un colpo solo Bravissimo Il prossimo È qui vicino Merda Aspetta Volevo Passare Attraverso la recensione Io Ecco fatto Aspetta Dov'è? È sparito Ecco fatto Un po' di munizioni Extra per me Vieni Pierce Risali sopra E ora è il momento Di levarci di torno Prima che la polizia Ci rompa le palle Ed ecco qua L'ultimo gruppo Di Ronin Ah, la polizia Ma vai via Ah, mi date solamente Fastidio Ne è valsa Assolutamente La pena Di farsi tutte Quelle missioni Prima Per prendere Queste armi E là Eccolo lì Un Ronin Fermati Fermati Che ho bisogno Della tua moto Grazie L'ultimo Luogotenente Ovvero Shondi Si trova qui Questa zona Me la ricordo Me la ricordo Perché stavo facendo Una missione In questa zona In centro 1 Ehi Shondi Ciao Ciao Ah, sulla macchina Per forza Eh dai Vieni qui Vieni Shondi Ah, va bene Salgo sulla macchina Per carità Sia mai È il momento È il momento di fare Un'acrobazia Folle Eccoci Qui Ce l'abbiamo Fatta Più o meno Il prossimo È qua sopra Ecco il prossimo Salto Passiamo per questo Tubo E Si vola Madonna 5 stelle Di super salti Va bene Brava ragazza E bravo gioco Che me lo fai In automatico Ah beh Ora la capisco io Questa scena La prima volta che L'ho giocato Non lo capivo Perché Johnny Stava picchiando Sto tizio È la canonizzazione Bellissimo L'ho capita Solo adesso La canonizzazione Questa ragazza Mi piace Anche questo ragazzo A parte che Carlos C'ha gli occhi Che sembrano rossi In realtà È un castano strano Bravo È bravo Quello Contaci Contaci Sei proprio Devo Brotherhood Brava Donne I brividi I tre remagi Con la macchina rubata I saints Resurrected Abbiamo Sbloccato Il nostro Primo Seguace Perfetto E niente Zone Perché Il numero Di decks È stato salvato Dal cellulare Compra I cambiarti Vestiti Per aumentare Il livello Di stile Grazie Lo so Oh Il cellulare Ok Carlos Sì anche se i sottotitoli Sono spariti Però vabbè Ora la mia domanda è Questa è la missione dei Ronin Questa è dei Sons Questa qui della Altor Qual è? Cioè quella dei DLC? Può essere? Giusto per sicurezza Un salvataggio l'ho fatto Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come al solito Se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti